Nonostante l'ordinanza del sindaco per la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri, il parco Pallotta ad Ostia durante tutta l'emergenza neve è stato sempre aperto. I gnoti nei giorni precedenti all'allerta meteo avevano divelto i cancelli, che non sono mai stati riparati. Passato il gelo e il rischio di farsi male a causa del ghiaccio, sono rimasti però tutti gli altri problemi relativi alla sicurezza. Questo è l'unico parco di Roma che è rimasto aperto. Certamente, qua tutti i cancelli di parco Pallotta, se uno va a vedere sul perimetro, sia su Via dell'Appaiatore, sia su Via della Martinica, lo stesso qui Cancello di Via D'Anchere di Chiaraluce, sono letteralmente sfondati, sono stati tolti addirittura i nottolini. Quindi c'è stata questa azione vandalica che è figlia naturalmente di una situazione, di una realtà che vede allo sbando questo parco da diversi anni. Nel senso che qui, notte e giorno, veramente ci può entrare chiunque. Nelle ore notturne si vedono fenomeni di bivacco anche alle ore di pranzo, quindi è ovvio, come se uno si fa un giro qua per tutto il perimetro del parco, può vedere scritte sui muri. E quindi è veramente una zona lasciata a se stessa, nonostante noi più volte abbiamo chiesto l'intervento delle istituzioni. Qui di notte, di nuovo, abbiamo fatto una battaglia per lungo tempo su quella che era l'illuminazione notturna del parco Pallotta. Da diverse settimane siamo di nuovo da capo a 12, si può dire, perché qui non c'è illuminazione, non c'è nulla, gente ha paura. Qui ci stanno fenomeni di polpette avvelenate, polpette coi chiodi, e quindi naturalmente chi rischia poi la salute dei nostri amici, insomma dei nostri cani, dei nostri animali. Il parco fa schifo, stiamo reclamando sempre, io sono il primo che sono andato i vigili, la finanza acquisita che si fermano, e ce lo dico, pure i carabinieri, la pulizia. Qui è entrata e qui è uscito. Sotto i dettori stanno cadendo tutto, hanno rubato tutto. È un disastro qui. Questi cancelli dovrebbero essere chiusi, come alla stazione centrale, e non fa più entrare più nessuno. Questo è molto pericoloso per la gente e i bambini. È un problema soprattutto di sicurezza? Sì, perché il cancello comunque lì non c'è, entra chiunque di notte, lasciano bottiglie di vetro, insomma il parco è sporco, anche per i bambini, non solo per i cani in lago comunque, e anche siringhe, buttano anche le siringhe qui, comunque è abbastanza pericoloso, sia per i cani che comunque per le persone, insomma uno può cadere, si può tagliare, e l'illuminazione è abbastanza scarsa, nel senso che comunque dopo una certa ora non puoi più camminare, insomma poi questa non è che sia una zona molto sicura. Questo è l'ingresso principale del parco da Via della Martinica. Qui come vedete il cancello è stato addirittura smontato e portato via. Da Ostia per Cane 10 Paolo Leone. Grazie.